Entra nel vivo la corsa alla presidenza del Partito Democratico in vista delle eminenti primarie fissate al 30 aprile prossimo. Competitors, Renzi, Orlando ed Emiliano sempre più impegnati in una campagna elettorale che pare tutt'altro che all'insegna del confronto tra amici di partito e se Michele Emiliano appare parzialmente soddisfatto dalla pronuncia della Commissione Nazionale del Congresso del PD che ha deciso di riammetterlo anche in Lombardia e Liguria ma solo in cinque collegi della prima e uno della seconda dove la raccolta delle firme era regolare si scalda Andrea Orlando che in giro per la Puglia punta l'indice accusatore contro l'ex premier Matteo Renzi non risparmiandogli parole molto dure in merito a quella che definisce una vera e propria ossessione di tornare a Palazzo Ghigi. Ossessione dice che rischia di essere un ostacolo per la ricomposizione del centro-sinistra. Anche Emiliano dal canto suo lancia il sasso e non nasconde neanche la mano evidenziando che la vittoria di Renzi sarebbe negativa per molte ragioni. La principale che ci farebbe dice perdere le elezioni non so se le perderemmo con Berlusconi o con il Movimento 5 Stelle ma Renzi non può vincere le elezioni. Questo è il punto fondamentale. Frecciate velenose che sembrano deviare dalla traiettoria principale. L'ex premier vestito di impermeabile sembra lasciar scivolare le stoccate dei suoi avversari e sembra essersi inabissato. A parte i suoi incontri di piazza sui social appare sempre meno per molti un'astuzia studiata a tavolino per altri la semplice sicurezza di primeggiare alle primarie del 30 aprile. Un confronto quanto mai è vincente di cui Teleregione si occuperà nell'ambito di una puntata speciale di Parliamonecon. Alla presenza di capilista sostegno dei tre candidati alla segreteria nazionale. In studio domani venerdì 21 aprile a partire dalle 20 e 45, replica alle ore 23 e 45 circa, Ruggero Menea per la mozione Renzi Martina, Francesco Spina per la lista Noi per Emiliano e Medeo Bottaro pro Andrea Orlando. Scalda i motori la macchina elettorale del PD e cresce l'attesa per il risultato finale dettato dalle primarie.